Perché sia io che Massimo siamo due primi della classe, arriviamo... Ecco, un'altra cosa che mi ha insegnato mio padre è quando vai sul set devi sapere la parte come l'Ave Maria. Perché dopo se tu la sai come l'Ave Maria poi puoi fare i cagli oscuri. Sono due modi diversi di accorciare questo vestire. Ad esempio, Ugo Tognazzi, Marcello Nostroianni non studiavano tanto la parte, andavano ogni mattina, leggevano ed erano straordinari. Invece la scuola di mio padre è quella che devi sapere. Io ad esempio, adesso non lo faccio più perché mi sono rotto le scadole, ma quando ero più giovane, più rivista, sapevo tutto il copione a memoria. Io arrivavo sul set e sapevo la parte di tutti quanti perché avevo il film in testa e quindi potrò mostrarmi meglio. Cosa che molte volte il regista stesso non so, ricorda. E direi, no, perché prima c'è quello, guarda che già l'ho detto e non lo posso ripetere qui. E quindi Massimo, come me, quando abbiamo fatto questa scena con i De Valenti, non l'abbiamo fatta anche perché poi De Valenti sei il produttore, quindi c'è stato un giorno solo in quell'albergo di Miami. Ho detto, dovete sbrigare, e poi non ci cacciano. E quindi non potevamo fare gli artisti che ci riprovavano tante volte. E insomma, quando...